Dopo il presidente del mister e la volta del vicepresidente Raffaele Nocera, anche per te due parole sulla partita, sull'arbitro, però non ci denunchiamo troppo perché già ha parlato e anche con una certa rabbia Giovanni Palmentieri. Che dire Pasquale, no io sono contento, prima di tutto parlo dei miei ragazzi, della prestazione della squadra, il reparto offensivo come al solito ha fatto la differenza, mi permetto di dire al di là dell'arbitro che onestamente secondo me non merita manco le nostre parole perché per me non è un arbitro, mi permetto di dire che sul 3-2 forse siamo stati anche un po' ingenui, quella palla si deve buttare in montagna e non la devono vedere più, quindi non mi voglio dilungare sull'arbitro ma dobbiamo diventare ancora più cattivi, dobbiamo far frutto di queste brutte esperienze e quindi quando siamo in vantaggio dobbiamo veramente nascondere la palla. A proposito di dare più cattivi magari c'è anche il primo dicembre, apre anche il mercato, la società ha intenzione di intervenire. Non ci nascondiamo dietro a un dito, il nostro obiettivo è provare la promozione appunto in promozione e quindi già i nostri consulenti si stanno dando da fare, un po' venendo i giocatori liberi e sicuramente la cosa che posso dire è che interverremo, interverremo per rafforzare la nostra rosa. Una squadra che già è forte però chiaramente ha bisogno ancora di essere puntellata, no? Sì, siamo orgogliosi dei nostri ragazzi, ci riteniamo forti, però per una squadra in un girone come questo, in cui ci sono realtà come Bacoli, Acerrana, lo stesso Chiaiano che ha dimostrato che è una squadra molto compatta, ci vuole una grossissima concorrenza per reparto, è quello che faremo dal primo dicembre, quindi sicuramente acquisteremo, probabilmente acquisteremo in ogni ruolo, in ogni reparto.